Aiuto! Ho trovato le backrooms! Un buco nel muro? Avviciniamoci! Cosa? Ma sono le backrooms! Ma... Oh no! No! Aiuto! Ma cosa succede? Orso! Stanno litigando! Stanno litigando! Smettetela! Oh no! L'insegnante dell'Aite e l'Orso stanno litigando! Smettetela, ehi! Basta! Basta! Oh no! Orso! Insegnante dell'Aite! Cosa hai fatto? Basta! Insegnante dell'Aite! No! Aiuto! Sono nelle backrooms! Non riesco ad uscire! Oh! Lì c'è un passaggio! Entriamo! Dove sono? Dove sono? Cosa? Sento qualcosa! Aiuto! Si sta avvicinando qualcuno! A... Wow! Grazie a tutti.